Ebrei, capitolo 11, dal verso 23 al verso 29, a Dio vada la gloria. Per fede, Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede, Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori di Egitto perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani, che tentarono di fare la stessa cosa, furono inghiottiti. Amen. Chiudiamo gli occhi. Signore ti vogliamo ringraziare per questa bella storia che ci viene presentata stamattina, quella di Mosè, tuo servo, e ti vogliamo pregare, oh Signore, che nel considerare questi versi il nostro cuore possa essere aperto nella tua presenza e si possa lasciar toccare, oh Signore, per essere da te trasformato, oh Signore Dio, perché tu continui e desideri continuare a salvare, a liberare, a cambiare la vita delle persone. Rimani con noi, oh Dio, e ti chiediamo ogni grazia nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Gloria al Signore. Restate comodi, gloria a Dio. La storia di Mosè è certamente una delle storie più note che ci sono nella Bibbia, anche perché essa occupa un ruolo importante, soprattutto nell'Antico Testamento, ma poi viene riportata anche nel Nuovo Testamento. E di questo un uomo di Dio troviamo poi un epitaffio bellissimo che viene presentato nel capitolo 34 del Deuteronomio, quando a conclusione della sua vita è scritto, sicuramente, o meglio, molto probabilmente da parte di Giosuè, ma sappiamo che queste parole di Dio, quindi, è ispirata dallo Spirito Santo, Non c'è mai più stato in Israele un profeta simile a Mosè, con il quale il Signore abbia trattato, o, come dice un'altra versione, abbia conosciuto, faccia a faccia. Nessuno è stato simile a lui in tutti quei segni e miracoli che Dio lo mandò a fare nel paese di Egitto contro il Faraone, contro i suoi servi e contro il suo paese. E n'è simile a lui in quegli atti potenti e in tutte quelle grandi cose tremende che Mosè fece davanti agli occhi di tutto. Israele. Mosè è stato uno straordinario uomo di Dio. E proprio per questo egli è un esempio importante per la nostra vita. È un uomo che cresce in un posto, scusate, difficile, qual era l'Egitto. Si trova lì, come d'altronde i suoi antenati da circa 400 anni. Si trova lì perché Giacobbe era sceso ai tempi della caressia che c'era stata, insieme a tutta la sua famiglia, e questo perché Giuseppe era stato mandato dal Signore, venduto dai fratelli, e si era trovato ad essere vice re del paese di Egitto. E nell'essere lì sfugge allo sterminio che era stato decretato da parte di Faraone, perché, come abbiamo letto al verso 23, quando nacque i suoi genitori lo tennero nascosto perché lo videro bello e non ebbero paura dell'edito del re. E quindi ricevette sicuramente in questo, quando gli venne raccontata la storia, un esempio di fede e di coraggio. E Dio aiuti tutti quanti noi genitori ad essere degli esempi di fede e di coraggio. Dice Giosuè, si forte e coraggioso, perché i nostri figli, i nostri giovani più in generale, hanno bisogno di vedere nelle persone più mature e più anziane degli esempi positivi. Hanno bisogno di imparare come si sta in Chiesa, hanno bisogno di imparare a venire in Chiesa, hanno bisogno di imparare come ci si comporta nella società, hanno bisogno di ricevere, ripeto, un buon esempio. E Mosè lo ebbe, lo ebbe perché i suoi genitori lo nascosero, non ebbero paura dell'edito del re. E se poi avete visto, scorrendo i versi che descrivono la vita di Mosè, è scritto che neanche Mosè ebbe paura, perché quello che si riceve dai genitori solitamente lo si porta dietro nel corso degli anni. inculca al fanciullo la strada che deve seguire e anche quando sarà grande non si scosterà da essa. E Dio ci aiuti appunto a mostrarci coraggiosi, dicevamo, a non avere paura di questo faraone che c'è in questo mondo, che figura quindi del principe delle tenebre, a non avere paura perché la vittoria appartiene al popolo di Dio, appartiene a noi che siamo per grazia cristiani. E quindi è vero, lui fa tutti i suoi editti, lui minaccia con furia e con violenza, ma noi sappiamo in che abbiamo creduto. E quindi non temiamo, ma confidiamo nel Signore e sappiamo che nel nome del Signore la vittoria sarà nostra. Un buon esempio quindi ricevuto che viene poi praticato da questo giovane, perché viene il momento in cui si fa grande e deve fare delle scelte. Viene il tempo in cui siamo chiamati a fare delle scelte. Ora alcuni di voi state diventando grandi, altri siete già grandi e in ogni caso delle scelte quotidiane le dobbiamo fare. E in queste scelte dobbiamo agire, come abbiamo letto in questo passo, per fede. Ora agire per fede non significa essere degli scriteriati, né essere dei mistici, né essere dei visionari, diffidati da quelli che hanno queste attitudini che sono sì sicuramente attraenti, ma che spesso sono frutto più di allucinazioni mentali che di guide spirituali. Agire per fede significa innanzitutto agire sulla base della parola di Dio, perché la nostra fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola del Signore. E quindi quando agiamo per fede siamo persone che si fondano innanzitutto sulle promesse del Signore, sulla guida, sull'aiuto e sul sostegno che viene da parte del Signore. Agire per fede significa operare secondo l'impulso dello Spirito Santo e vogliamo ben discernere quando è lo Spirito Santo a parlare e quando è l'uomo, magari il nostro e io interiore, a suggerirci certe azioni. Dobbiamo agire per fede, sì, ma dobbiamo agire con la certezza che veramente è il Signore che ci sta guidando. Un passo che spesso citiamo è quello della Chiesa di Antiochia, dove a un certo punto vengono chiamati al servizio Paolo e Barnaba, e lo Spirito di Dio che parla, ma non vengono subito mandati. E' scritto, lo leggete chiaramente nel capitolo 13 degli Atti, che dopo che lo Spirito Santo parlò e disse mettetemi da parte Paolo e Barnaba, la Chiesa pregò e la Chiesa cercò la conferma da parte di Dio che quello che era stato detto era da parte del Signore. Ci sono dei profeti, i primacorinzi capitolo 14, ci parlano due o tre al massimo, gli altri giudichino alla luce della parola di Dio e dell'insegnamento totale delle Sacre Scritture. E Mosè agì per fede, fede una volta che fu grande, e le sue scelte furono scelte coraggiose e anche decise e ferme. Innanzitutto decise di non essere chiamato figlio della figlia di Faraone, ma preferì essere maltrattato con il popolo di Dio. Preferì appartenere alla Chiesa del Signore, diceremmo oggi, piuttosto che al mondo. E Dio ci aiuti a fare questa scelta, di appartenere al Signore piuttosto che al mondo. Perché chi è amico del mondo è nemico di Dio. E di riflesso chi è amico di Dio diventa nemico del mondo. Perché sono due cose inconciliabili tra di loro. Che comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quando mi convertì, e l'ho lì a Messina, prima di convertirmi avevo stretto delle amicisi, alcune buone, altre un po' meno, e quando parlai col pastore della Chiesa dove mi sono convertito, gli presentai il discorso e gli disse adesso come farò con questi miei amici? E lui mi disse, tu non ti devi preoccupare. Se tu sarai fedele al Signore, loro si allontaneranno da te. Se tu non sarai fedele al Signore, loro continueranno ad essere i tuoi amici. E così è accaduto. Si sono piano piano allontanati. Posso dire una cosa? Non sono rimasto solo. Perché ho trovato nella Chiesa tanti buoni amici. Tante persone che mi hanno voluto bene. E ho preferito e preferisco tuttora l'affetto dei fratelli e delle sorelle a quelli del mondo. Non che non si abbiano amici nel mondo, sia chiaro. Però quella che veramente ci consola e ci rallegra è l'amicizia e l'affetto dei fratelli nella fede. Perché sono persone speciali. Non perfette, ma speciali. Feci una scelta. E io spero che anche tu stamattina decida di fare una scelta coraggiosa, ma importante nella tua vita. Che è quella di appartenere al Signore, di rifiutare di essere chiamato figlio o figlia di questo mondo per appartenere al popolo di Dio. Un popolo che da parte del Signore è sempre stato amato, un popolo che è sempre stato onorato, un popolo che ancora oggi sussiste malgrado tutte le persecuzioni che ci sono state. Perché è vero, l'avversario ha cercato di distruggere il popolo di Dio, ma noi, cucù, siamo qui. Perché il Dio ha preservato il suo popolo nel corso degli anni. Allora è meglio appartenere al popolo del Signore che agli altri popoli. E' meglio avere il Signore come condottiero anziché i condottieri di questo mondo. Perché i condottieri di questo mondo passano, il Signore è eterno. Perché i re di questa terra prima o poi devono abdicare. Mi dispiace perché è sempre una persona che ha lasciato questa terra. Tanti meme si facevano sulla regina Elisabetta, sembrava immortale. Ma per tutti viene il giorno in cui si lascia questa terra. Ma il mio Dio, il mio re, è vivente. Ed egli non muore, perché Cristo Gesù è il Signore. L'avevano messo in croce ma è risorto e regna nei secoli dei secoli. Non ho paura che quel trono possa improvvisamente diventare vuoto, perché Cristo è seduto per l'eternità. Ed è meglio quindi appartenere al popolo del Signore. Scelta più saggia, più intelligente. Certo ci vuole coraggio, non è per le pappamolle essere cristiani. Non è per quelli che sono codardi, per i vigliacchi. Per quelli non è possibile essere cristiani. Perché bisogna essere fermi e decisi. I violenti, non nel senso di quelli che fanno a botte. I violenti rapiranno il regno di Dio. E Sian ci aiuti ad avere questa fermezza, questa decisione, il desiderio di essere per grazia figli di Dio, appartenere al popolo di Dio, piuttosto che appartenere a questo mondo. Perché il mondo che ci circonda è un mondo che si sta autodistruggendo. Sia in senso fisico, sia in senso morale, e sia anche in senso spirituale. E ce ne accorgiamo. Perché tutto quello che accade intorno a noi è un continuo degradarsi. E Dio ci aiuti per questo a santificarci, cioè a separarci da tutta questa corruzione che c'è nel mondo, e a guardare al Signore come unica speranza e soluzione della nostra vita. Fu una scelta di fede, dunque, quella di rifiutare di essere chiamato figlio della figlia di Falone, di preferire di essere maltrattato con il popolo di Dio. Fu una scelta di appartenere al Signore, piuttosto che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Sì, perché il peccato, lì per sé stesso, è qualcosa di piacevole e di attraente. Però ha sempre un certo retrogusto di amaro. È un po' come quelle merandine scadute, che chissà perché sono sempre più buone di quelle che non sono scadute. Poi però ti senti male. È un po' come quei cibi avariati, che lì per lì non te ne accorgi, li mangi perché hai fame, poi però stai male. E così è del peccato. Bello, attraente, sembra buono, sembra credevole, sembra piacevole. D'altronde il frutto, quando Eva lo viste, lo vide, rimase attratta. Ma poi cosa accadde? Accadde che si rovinò tutta la sua vita, quella di suo marito, quella dei suoi figli, tant'è che il primo omicidio avviene proprio tra i figli di Adamo ed Eva. Se per piacere state fermi, perché se no io mi distraggo e anche gli altri si distraggono. Perché il peccato ha sempre delle conseguenze negative nella nostra vita. Allora il Signore ci aiuta ad essere saggi, perché se c'è un piacere effimero del peccato, c'è una gloria, una gioia eterna dell'essere fedeli al Signore. E noi vogliamo fare questa scelta. Il peccato ci può dare qualcosa, il Signore ci può dare tutto. Il peccato può farci stare bene per qualche momento. La presenza di Dio ci permette di godere per l'eternità. Non è stato sciocco Giacobbe, è stato sciocco e stolto Esau, quando vendette la prima genitura per un piatto di lenticchie. Non ragionare come Esau, che mi interessa della prima genitura, che mi interessa del cielo, che mi interessa dell'eternità, che mi interessa dell'aldilà, non è tornato nessuno a dire qualcosa. Che ne so io di quello che è, che ne so io di quello che sarà. Si saggio, si saggia. Il tempo passa via velocemente. Come dice il Salmo 90 di Mosè, passa presto. E non manca molto al giorno in cui ci dovremo presentare davanti a Dio. E allora lì scopriremo, se siamo stati fedeli al Signore, quanto è stato saggio amare e servire Dio su questa terra, e fare la scelta coraggiosa di appartenere al popolo di Dio. Se invece non saremo stati saggi su questa terra, lì sarà il tormento, il pianto e lo stridore dei denti. E nessuno potrà dare sollievo, perché ci sarà un'eterna separazione da Dio. Signore ci aiuti. Mosè fu saggio, fu intelligente, scelse di servire il Signore, scelse di appartenere al popolo di Dio, considerò gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto. E questo perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Che Signore ci aiuti a considerare i tesori spirituali maggiori dei tesori di questa terra. Dio sia benedetto, come dice l'Apostolo Paolo nello scrivere agli Efesini, nel capitolo 1, in quel bellissimo prologo, benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ci sono grandi tesori che sono riservati a quelli che amano il Signore. E di questo forziere, come abbiamo visto anche venerdì nello studio biblico, la chiave ce l'ha uno. Ed è Gesù Cristo, il figlio di Davide. Colui che apre e nessuno chiude. Colui che chiude e nessuno apre. Allora oggi che le porte della grazia sono aperte, oggi che ancora puoi avere questo libero accesso nella presenza di Dio, e poi fare questa scelta meravigliosa di appartenere al popolo del Signore, non rimandare, non ritardare, non dire la prossima volta quando sarò più grande, quando sarò vecchia, quando i figli si saranno sposati, perché facendo così non si fa mai una scelta. Facciamo un po' come quello che doveva fare la dieta, la sapete questa storia, si metteva sul cuscino il foglietto, domani dieta. E ogni mattina si alzava, leggeva il foglietto ed era tranquillo, domani dieta. E andava avanti così, fino a quando arrivò alla fine dei suoi giorni e quella dieta non la iniziò mai. Lo sai che tu stai facendo lo stesso? Sì, domani, domani, domani. Attenzione, perché verrà il momento in cui un domani non ci sarà. Oggi è il giorno della grazia. Oggi è il giorno in cui dobbiamo scegliere di servire il Signore. Se tu aspetti che le cose migliorano, non lo faranno mai. Sarai come quel caro fratello che in chiesa, quando il pastore diceva ho bisogno di aiuto per fare questo, e diceva, fratello, adesso mi devo sposare, mi sto organizzando tutte le cose per le nozze. Dopo che mi sarò sposato, fratello conta sempre su di me. E poi si sposò, il fratello lo chiamò, gli disse, fratello, fratello, mo mo mi sono sposato, abbi pazienza, qualche giorno anche per sistemarci casa. Il tempo di sistemare casa. E poi il tempo, sai, mia moglie, grazie a Dio, il Signore ci ha donato un figlio, adesso ha bisogno di aiuto. E poi, sai, abbiamo un figlio piccolino, adesso bisogna crescerlo. E adesso sta andando a scuola, lo devo aiutare per i compiti, devo stargli vicino. E adesso è alle superiori, sai, un momento difficile della sua... E adesso si deve sposare, che si è fidanzato. E arrivò il giorno in cui il pastore morì, ma lui di questo fratello l'aiuto non l'ebbe mai, perché c'era sempre qualcos'altro da fare. Quello sei tu, quella sei tu. Oggi è il tempo di fare una scelta coraggiosa. devi decidere chi vuoi servire. Se vuoi servire il Signore, o vuoi servire te stessa. Se vuoi servire il Signore, o vuoi servire la tua famiglia. Se vuoi essere come Mosè, che considera i tesori di Egitto qualcosa di inferiore rispetto agli oltreggi di Cristo, o vuoi dedicarti a tutte queste cose di questa terra, lasciando scorrere il tempo. Ma attenzione, perché è una strada pericolosa. È una strada che l'uomo sembra essere diritta, ma, libro dei proverbi, essa mena alla rovina. Mosè decise quindi di fare questo perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Ora, tutto dipende dall'obiettivo che noi abbiamo. Perché a seconda degli obiettivi che noi ci poniamo, facciamo delle scelte. Ora, vi capiterà a tutti che dovete fare delle cose durante il giorno che non ci avete proprio voglia. Ed è dura alzarsi la mattina a fare quelle cose. È dura, 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 dura. Poi ci sono giornate in cui invece dovete fare delle cose che vi piacciono e non vedete l'ora di alzarvi. Non vedete l'ora di partire per andare non so dove, dove vi piacerebbe andare. Così è nella vita spirituale. Le cose non sono molto diverse. Se amiamo il Signore, facciamo le cose. Se non amiamo il Signore, tutto è pesante, c'è sempre una scusa. Legittima e legale. Signore, abbimi per riscusato perché ho comprato i buoi e li devo andare a vedere. Abbimi per riscusato perché ho comprato i campi e li devo andare a vedere. Abbimi per riscusato perché mi sono sposato e devo capire quello che mi tocca in futuro. Signore, c'è sempre una scusa, no? Tutto dipende dall'obiettivo. Mosè aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Dove stai guardando tu? Dove è fissato il tuo sguardo? Dove stai concentrando tutte le tue energie? Signore, aiutami e aiutaci, permettetemi di coinvolgere tutti quanti voi ad avere lo sguardo rivolto verso la ricompensa. Perché per Mosè abbiamo visto alla fine quello che Dio disse e quello che Dio fece perché Dio dà una ricompensa su questa terra e nel cielo. E la ricompensa su questa terra non è il conto in banca. State tranquilli. Non è la macchina lussuosa, non è... non lo so quello che è, è la sua benedizione e la sua presenza. Perché, vedete, se Mosè non avesse fatto quelle scelte non avrebbe visto né il Mar Rosso aprirsi, né l'acqua sgorgare dalla roccia, né le quaglie arrivare, nulla di tutto quello. Perché Dio ci benedice su questa terra. E le sue benedizioni sono benedizioni spirituali. Ci fa stare bene, contenti, appagati, felici, perché siamo parte del popolo di Dio. Non ci sono certamente vite senza problemi in mezzo al popolo del Signore perché tutti abbiamo dei problemi e li affrontiamo ma con l'aiuto del Signore li superiamo. E allora guarda questa ricompensa, la presenza di Dio nella tua vita che ti può rallegrare, che ti può fortificare, che ti può dare la gioia di poter vivere una vita felice. perché poi spesso noi diciamo beati a quelli che hanno tanti soldi, beati, quelli che hanno grandi ricchezze, beati, poi leggi le loro biografie e vedi che beati non sono mica tanto. E che sono più beato io che ho una multipla targata CX 850 KG di quelli che hanno il Ferrari e possono sfrecciare per le strade. Perché? Non perché la multipla sia meglio del Ferrari, meglio la Ferrari, ma perché la presenza di Dio è qualcosa che ci appaga e che ci rende felici e Dio sia lodato perché la presenza del Signore ci appaga e ci rende felici. Se abbiamo lo sguardo rivolto alla ricompensa considereremo che le cose di questa terra sono per un tempo. Quando leggo il libro dell'Apocalisse e mi soffermo sul capitolo 22 La Gerusalemme Celeste e io penso mappa, io sarò lì, io camminerò per quelle strade, non l'ho meritato, non lo merito e camminerò se sarò fedele fino alla fine ma io per grazia ci potrò essere se solo farò la scelta di servire e di amare il Signore. Allora abbiamo Dio ci ria grazie di avere lo sguardo rivolto alla ricompensa. Abbiate lo sguardo rivolto alle cose di lassù non a quelle che sono qua giù perché quelle che sono qua giù sono effimere ma quelle che sono lassù sono eterne. Sguardo dritto non dobbiamo voltare né a destra né a sinistra. Vi ho già raccontato che quando siamo andati con mia moglie 25 anni fa qualche giorno in più in viaggio di nozze in Spagna in Andaluccia come la chiamano loro una mattina ci hanno svegliato presto per andare in un paese a visitare e ci hanno portato con l'autobus. Ora in genere le strade non erano male ma lì c'era una strada che era tipo il pezzo tra Pirivoglia e Tripomel in giro tutte curve così io grazie a Dio non soffro l'autobus ma quella mattina stavo male perché c'era l'autobus che mi faceva male c'era la guida che faceva a destra ci sono i toreri a sinistra io guardavo dritto perché se avesse soltanto mosso la testa così sapevo quello che sarebbe successo. Ecco Dio ci aiuti nelle vie dello spirito guardare dritto guardare dritto chi mette le mani all'aratro deve guardare dritto non si può guardare né a destra né a sinistra soprattutto non si deve guardare indietro guardiamo dritto guardiamo alla ricompensa guardiamo alla Gerusalemme celeste guardiamo alla benedizione che Dio ha riservato per tutti quanti noi e allora anche noi come Mosè per fede siccome saremo costanti come se vedessimo colui che è l'invisibile abbandoneremo l'Egitto perché poi bisogna fare un taglio radicale c'è un cantico che dice il mondo non è più per me bisogna abbandonare l'Egitto non si può vivere nell'Egitto ed essere cristiani bisogna fare una scelta non possiamo sempre essere una cosa e poi un'altra non possiamo essere santi in chiesa e diavoli in casa bisogna fare una scelta non possiamo essere come quel quell'uomo che aveva una moglie a cui voleva molto bene e la moglie gli disse io avrei il desiderio di avere un cagnolino a casa e questo uomo che voleva bene alla moglie che quindi voleva soddisfare il suo desiderio gli disse te lo vado a comprare e allora prende va a comprare questo cagnolino e mentre passa siccome aveva il viso di farsi il cicchetto passa da una bettola dove c'erano i suoi amici si ferma si fa il cicchettino e mentre beve gli dice ai suoi amici quello che stava per fare esce e va a comprare il cagnolino e gli amici che sapevano che sicuramente quando sarebbe tornato sarebbe passato di lì gli prepararono uno scherzo arrivò aveva un sacco con questo cane lo distrassero tolsero il cane misero un maialino e questo qua prende arrivare dalla moglie arriva dalla moglie tutto contento e baldanzoso e gli dice moglie ti ho portato il cagnolino quelli apri il sacco e si trova il maialino ci rimane un po' male il marito dice no non è possibile io ho chiesto un cagnolino a me sembrava che fosse un cagnolino prende riparte e ripassa di nuovo dal bar e si fa un altro cicchetto nel frattempo i suoi amici che avevano organizzato tutto ritolgono il maialino e rimettono il cagnolino quello arriva da colui che gli aveva venduto il cagnolino che era diventato maialino e gli dice ma guarda che cosa mi hai combinato ti avevo chiesto un cagnolino e mi hai dato un maialino ma non è possibile io ho messo un cagnolino te lo assicuro aprono il sacco e c'è il cagnolino e quell'uomo dice ma non è possibile non l'ho visto solo io io sono uno che un pochettino beve l'ha visto pure mia moglie però boh boh non lo so che è successo prende, passa, torna naturalmente che fai prima di arrivare a casa non ti fai un altro cicchetto va di nuovo dal bar così tre o quattro volte è sempre la stessa storia va dalla moglie c'è il maiale va dal proprietario c'è il cagnolino alla fine apri il sacco guarda questo animale gli dice tu ti devi decidere o maialino o cagnolino non è che puoi fare sempre sto cambiamento e te lo voglio dire a te stamattina tu ti devi decidere o cristiano o egitiano o come Mosè o come i figli della figlia di Faraona devi fare una scelta tu non puoi vivere sta doppia vita non puoi essere del mondo e della chiesa non potete soppicare dai due lati dice Isaia non potete servire Dio e Mammona dice Gesù dobbiamo fare una scelta Mosè la fece fu coraggiosa fu netta fu decisa e per questo Dio lo benedisse e non solo lo benedisse ma lo ha accolto nella sua Gerusalemme celeste e gli ha fatto concludo attraversare il Mar Rosso su terra asciutta e ricordati quando tu decidi di seguire il Signore di Mar Rosso di Mar Rossi ce ne saranno tanti però colui che apre il Mar Rosso è ancora vivente ed è capace di aprirla ancora quel Mar Rosso però devi lasciare l'Egitto devi fare la scelta decisa di fare la volontà di Dio devi fare la scelta determinata di servire il Signore e di appartenere al popolo del Signore e poi tutti i Mar Rosso che ci saranno si apriranno ma se non fai questa scelta il Mar Rosso rimarrà sempre chiuso perché colui che apre il Mar Rosso onora quelli che lo onorano e sostiene quelli che confidono in lui perché è vero che tutte le cose cooperano al bene ma non di tutti quanti solo di quelli che amano e temono il Signore allora ami Dio ama Dio scusate temi Dio osservi i suoi comandamenti ecclesiaste capitolo 12 e allora vedrai che la tua vita sarà una vita bella e quando arriverà il giorno che questa terra la dovrai lasciare potrai dire come l'Apostolo Paolo ho combattuto è stato un combattimento duro certo è stato quello della fede però ho vinto e adesso mi aspetta la corona e ne sono certo nessuno mi può togliere questa certezza diceva Paolo perché sono stato fedele fino alla fine ho lasciato il mondo ho servito Cristo e ora me ne vado a godere col Signore un desiderio che avevo da tanto tempo diceva Paolo e che ora finalmente si realizza perché ricordatevi quando veramente amiamo il Signore veramente pensiamo come l'Apostolo Paolo il vivere Cristo il morire guadagno e noi lo pensiamo solo quando stiamo male o ci sono i problemi lo pensiamo anche quando stiamo bene perché siamo certi che il benessere di Gesù non può essere minimamente paragonato al benessere di qua giù sono cose molto diverse e Dio ci aiuti a guardare al cielo e a camminare nelle vie del Signore chiudiamo gli occhi teniamo il capo e adoriamo il Signore con tutto il nostro cuore